Elbrini si ha da giudicarsi il derby salvezza contro il Casarano, la formazione bianca-azzurra vince grazie alla rete siglata nel finale del primo tempo da Giuseppe Lopez, il Casarano nel secondo tempo prova a premere nella metà campo avversaria, sfiola il pareggio ma non riesce a riequilibrare le sorti dell'incontro. Al nono minuto ci prova Elbrini si con Lopez, la posizione defilata la sfera però termina alta sulla traversa, la gara è frammentata e i ritmi sono bassi nella prima parte dell'incontro, al trentatresimo ci prova Coronese per il Casarano, la sfera non inquadra la porta a Brinisina, al trentottesimo Elbrini si sblocca il risultato, azione insistita, ci prova prima Morleo sottomisura, il tiro poi dal limite la sfera termina per Lopez che trova la zampata vincente che vale l'uno a zero. Nel secondo tempo ci prova subito Bageda al limite e attento gli anni alla deviazione, al sesto Casarano protesta per un tocco di mano nell'area di rigore Brinisina, il direttore di gara lascia proseguire, all'ottavo è Fontana a provare un tiro a girare che termina però di poco sul fondo, ancora il Casarano che insiste al ventesimo colpo di testa di Sant'Arcangelo sul secondo palo che però non inquadra la porta a Brinisina. Il Brinis si prova a sfruttare gli spazi nelle ripartenze, al trentacinquesimo Galdian ci prova dal limite con la sfera che sfiora l'incrocio dei pali e termina sul fondo. Il Casarano nel finale continua a premere al quarantunesimo, ci prova Tedesco che trova lo spazio per girarsi in area di rigore, il tiro è debole parato da Cavalli. Cavalli in pieno recupero poi al novantaquattresimo su calcio d'angolo e attento Cavalli a deviare il pallone sulla traversa, è l'ultima occasione della gara, il Brini si festeggia a tre punti importanti, il Casarano esce comunque a testa alta dal Fanuzzi.